Intervistato da Sportweek, Alessandro Costacurta ha dichiarato Il Milan è nell'occhio del ciclone per ciò che è successo a Roma con Tio Eleao, ma, nel loro caso come per le altre rivali dell'Inter, oggi discutiamo sui problemi, ma tra qualche giornata parleremo di altro. È bene che certi difetti risaltino all'inizio, alla prima, seconda o terza giornata, ma, tornando a Tio Eleao, è altrettanto necessario che società, allenatori e compagni facciano loro capire che cose come quella di non avvicinarsi all'allenatore durante il cooling break non devono più succedere. Io non voglio addossare troppe colpe ai due giocatori, perché i loro comportamenti sono figli dei tempi attuali, ai miei tempi le regole erano più rigide e, nel caso non fossero rispettate, le conseguenze erano severe. Oggi c'è più lassismo. Sono sicuro che il francese e il portoghese abbiano l'intelligenza necessaria per capire di aver sbagliato.